Il progetto AKP Smart Band nasce per raccontare e valorizzare il lavoro di ognuno di noi ogni giorno. Racconta come i nostri colleghi tendono a svolgere il proprio lavoro con tanta passione, considerando il loro lavoro una vera e propria missione. Incoraggia i colleghi che ogni giorno si trovano ad affrontare sfide sempre più ardue e difficoltose, facendo tesoro delle loro esperienze. In tutto accompagnato da un forte senso di appartenenza all'azienda e un grande spirito di squadra. Racconta in maniera leggera argomenti molto cari ad acquedotto pugliese come il rispetto per l'ambiente e porta a tutti quanti i nostri colleghi coinvolti in sfide sempre più serie e impegnative tanta leggerezza, come fosse una valvola di sfogo. Racconta in maniera leggera argomenti molto cari a tutti quanti i nostri colleghi coinvolti in sfide. Racconta in maniera leggera argomenti molto cari a tutti quanti i nostri colleghi coinvolti in sfide. Grazie.